Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 27 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Chiarimento indispensabile in coppia e tra soci. Nottetempo con i soci non si può chiarire, anche se la luna all'opposizione reclamerebbe un certo discorsetto. Bando dunque alla tentazione di telefonare, al massimo scrivete un messaggio, o una mail che leggeranno al risveglio. Con il partner disteso accanto a voi nel lettone, invece, non ce la fate proprio, con una scusa cominciate a parlargli e una volta ben sveglio gli snocciolate il problema. Mossa ben fatta, ammesso che non vi mandi al diavolo voltandosi dall'altra parte, una volta chiarito l'equivoco vi ritrovate abbracciati, complice la luna nel frattempo passata di segno il soffitto diventa un cielo, illuminandosi di mille stelline colorate. Il cielo in una stanza non passa mai di moda. La coppia è attraversata da dubbi e incertezze sul futuro, motivate soprattutto dalla perenne indecisione dei partner. Solo i partner più ostinati e costanti riusciranno a districarsi dalle maglie dell'indecisione e portare a termine i progetti di coppia. Momento di estrema confusione per i sindi che resteranno scoraggiati e avviliti. Sarai loquace e attivo. Favoriti gli incontri con gli amici. Metti ordine in casa e tra le tue cose oggi stesso e non rimandare. Coltivate la speranza e soprattutto alimentatela continuamente pensando che presto, forse a partire dalla stessa serata di oggi, il sole, giove e saturno saranno dalla parte vostra. Buone prospettive per alcuni single che potrebbero fare incontri anche decisivi. Sei convinto che il modo con cui fai le cose sia altrettanto importante di cosa fai, per cui non tolleri le persone scortesi o sgarbate. Oggi non è il caso di arrendervi anche di fronte a piccole situazioni che si riveleranno negative, il vostro ottimismo deve prendere il sopravvento. Non fatevi trascinare in discussioni sterili e polemiche. È sempre meglio chiedere un parere o un consiglio a una persona veramente amica e fidata, piuttosto che richiedere mille pareri a persone superficiali e con scarsa propensione a fornirvi un aiuto. Popolarità. Buon umore. Le persone cercheranno per la tua compagnia. Sii più selettivo. Scegli la qualità più che la quantità. Non fidarti troppo degli altri oggi. U.S. ha un po' di intuito e conta su te stesso. Oggi sono possibili truffe e raggiri facilitati da un disordine temporaneo di pianeti. Fate molta attenzione e non lasciatevi illudere da nessuno. Se cercate un primo lavoro o uno nuovo sappiate che dovrete portare ancora tanta pazienza, se ne avete uno cercate la collaborazione tra colleghi e mantenete con loro un rapporto cordiale. Giove favorisce l'iniziativa. Se siete alle prese con un progetto importante è giunto il momento di dargli una spinta consistente. Oraganizzatevi in modo da essere al riparo da brutte sorprese. Luna fin troppo tranquilla in ottava casa, non vi parla dei vostri conti, magari lo fa solo per bonton, ma, intanto vi avvantaggia, così almeno iniziate la settimana tranquilli, in cassa un fondo di sicurezza è rimasto, il resto si rifarà. E poi se il vostro intuito, sempre fortissimo nei segni d'acqua, funziona davvero, avrete modo di rimpolpare il gruzzoletto giocando i numeri tratti dai vostri, sempre così vivi e ricchi di particolari. Amore ed Eros. Coccole poco prima dell'impietoso suono della sveglia, se avete qualcosa da farvi perdonare quei dieci minuti per fare micio micio saranno i più belli della giornata. Piccolo segreto che non vedete l'ora di condividere con la vostra dolce metà. Riuscite a tenere insieme la parte romantica e lirica dell'amore con quella della razionale intesa, quella capace di tenere saldo legame. Al vostro fianco ci sono sia Venere, che Saturno, in congiunzione entrambi proprio nel vostro segno dei pesci. E entrambi a sostenervi potentemente. In special modo se siete nati nella seconda e nella terza decade. Lavoro e denaro. Viaggio da fare impegnativo, si parte oggi per tornare giusto in tempo prima della pausa di Pasqua. Tostissimo anche un esame che non vi vede piazzati tra gli studenti più brillanti, non questa volta almeno, non fatene un dramma l'essenziale e averlo superato. Con la vostra dolcezza e la capacità di creare atmosfere leggiadre, vi organizzate la serata dopo il lavoro stancante con slancio e fertile creatività. Siete un segno che spesso si diletta di gastronomia, ora con Giove nel toro, segno del cibo, in ottima posizione, non è escluso che vi deliziate a far venire fuori dalle vostre mani le pietanze del menu improvvisando in modo più specifico se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 9 del mese di marzo. Benessere. Pancia brontolona capita soprattutto in viaggio, quando la cucina non è eccellente e gli ingredienti non sono gli stessi a cui siete abituati. Intolleranze da riconoscere e prevenire Fissate un colloquio con un nutrizionista Denaro Vi piacerà oggi fare una spesa per un bene edonistico e di lusso che da tempo avevate rinviato, per via del costo eccessivo. Ora che i soldi ci sono potete permettervela. Per lei, in coda in banca, per effettuare alcune operazioni, uno degli impegni di questa giornata, già azzurra nell'immaginario, alle soglie di una vacanza sia pure breve. Forte l'input di chiudere tutto per riaprire dopo Pasqua, saranno pochi giorni, ma a voi pare un tempo infinito. Per lui, finita la notte resta il ricordo dei sogni, così nitidi, intensi, ma non inquietanti, raccontateli al vostro co-unselor, ma intanto puntate i numeri all'otto. Con le grazie della Dea bendata non si sa mai. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.